Ehi tu, ma che cazzo vuol dire essere inutile nel 2017? Ebbene sì, noi della Sartoria e il gatto sul tubo abbiamo pensato proprio a te. Era da un po' che non uscivano magliette nuove, allora abbiamo deciso di rinnovarci un attimino, ma lasciando sempre un occhio al passato, che ci piace sempre. E io sono qui giunto per portarvi buone novelle. La vecchia maglietta con le frasi vi piaceva ma non avete fatto in tempo a comprarla? Niente paura, sono tornate. E hanno anche un dettaglio in più, gli occhi del gattino. Non so se avete notato questa bellezza, ma è così che fanno le grandi aziende per rivendere la stessa cosa al doppio del prezzo. Ok, mi dicono che il prezzo in realtà non è variato, ma nel caso ve la siate persa potete tranquillamente recuperarvela in edizione più fica con gli occhi. Cioè, meglio di così. E tu, avevi acquistato la vecchia maglietta senza occhi? Ricomprala adesso con gli occhi. Cioè, non vedo perché tu non dovresti farlo. Pezzente. Puh, mi fai schifo, mi fai. Eh, ma io mica sono venuto qui per il cazzo. Eh no, io sono venuto qui per mostrarvi qualcosa di nuovo, qualcosa di magico e di straordinario. La signorina Cikibe l'ha fatto ancora, ha seguito le mie meravigliose direttive ed è tornata con una nuovissima maglietta. La miglior maglietta mai fatta. Un design che prende quasi tutta la vostra panza da stronzi o i vostri segni prosperosi. Nel caso siate delle belle ragazze, scrivetemi qui sotto. www.ilgatto cerca una poputa per pubblicizzare magliette. Magliette. Ma che posso dire io che le immagini non fanno vedere. Cazzo ho detto? Come accaparrarvi una di queste straordinarie magliette? Ma è semplicissimo. Cliccate nel link in sovraimpressione. Lo possiamo mettere in sovraimpressione il link? Non lo so. Cliccate nel link qui sotto, ci sarà un link adeguato, dove troverete lo sciop. Ai primi venti che comprano la maglietta riceveranno anche in omaggio un portachiave di... No? Niente portachiavi. Non so che dirvi, io vi ho fatto il video dalla mia bellissima azienda, mi sono tagliato anche un po' la testa perché sono stretto. Ma voi oggi avete l'opportunità di portarvi a casa due straordinarie magliette. Non l'avete comprata prima? La comprate adesso. L'avete comprata prima ma non aveva gli occhi? La ricomprate adesso. L'avete comprata prima? Non aveva gli occhi? Comprate anche quella con gli occhi e volete anche quella nuova? Fatto! Straordinario. Io vi adoro, signori. Siete un pubblico bellissimo. Vi ringrazio come oggi, come sempre, rigorosamente. Sempre quella, dico. E ci vediamo quando ci vediamo. In live stasera, magari. Alle 21. Come sempre. Non so, faccio anche le magliette apposta, ma... Beh, io ho fatto il mio lavoro e mi servirebbe l'assegno. Chi me lo dà? Ugo? Beh, cosa vi aspettavate? Che il green screen si stirasse da solo? Ma guarda te, guarda. Chi me lo dà? Grazie.